Musica Benvenuti a tutti gentili telespettatori dal notiziario delle Marche di TVRS. La pandemia in primo piano con i dati delle ultime 24 ore come sempre forniti dal Gores. C'è da registrare un nuovo aumento della percentuale positivi tamponi, visto che i nuovi contagiati sono stati 519 con 2.905 test, pari al 17,8%. In leggera discesa invece il numero dei degenti nei reparti di terapia intensiva che passano da 94 a 90, mentre il totale dei ricoverati cresce ma appena di 4 unità. Le province più colpite sono sempre quelle di Macerata e Dancona, rispettivamente con 148 e 110 nuovi casi. Va un po' meglio nel sud della nostra regione, ma è indubbio che il virus continua ancora a circolare ed in maniera preoccupante. Nel frattempo è stato raggiunto l'accordo per effettuare test diagnostici rapidi nelle farmacie. I cittadini che lo vorranno potranno quindi recarsi in condizioni di totale sicurezza e previo appuntamento telefonico appunto nelle farmacie per eseguire il tampone in autosomministrazione. I risultati saranno poi trasmessi al Dipartimento di Prevenzione Asur per valutare se effettuare poi il test molecolare. Lo screening della popolazione, come già accennato ieri, può avvenire in vari modi. Estremamente interessante quello posto in essere dalle terme di Sarnano con una sua unità mobile al servizio di diversi piccoli comuni dell'entroterra. Sentiamo l'intervista. Guardi, questa struttura è in grado di fare all'incirca 100 tamponi al giorno. Poi adesso abbiamo delle convenzioni, quindi andremo nelle piazze dei comuni, in accordo con i comuni, dove addirittura qualche comune ci fornirà delle stanze, sempre queste stanze sanificate con tutte le normative Covid, e anche lì andremo a vedere quali sono le esigenze. Abbiamo già degli accordi con le aziende del territorio e quindi anche da quel punto di vista è comunque un servizio che riteniamo utile perché doversi spostare per i nostri cittadini, che nella maggior parte dei casi sono anziani, doversi spostare a fare i tamponi anche con il drive-in, il cosiddetto drive-in, ma anche solo a Macerata o a Tolentino diventa un problema. Quindi andarli a raggiungere nei posti dove sono riteniamo che sia fondamentale. Questa struttura mobile viene coordinata dalla direzione sanitaria delle terme di Sarnano, quindi dal dottor Paolo del Giudice e dalla proprietà che è il comune insieme con il presidente. Quindi è una sinergia molto importante che sta portando dei grossi risultati. Io ricordo che le terme di Sarnano sono ancora oggi la più grossa delocalizzazione dopo il sisma, quindi abbiamo riaperto nel 2017 e la nuova amministrazione delle terme è in grado di essere molto presente sul territorio ma soprattutto di affrontare in tempi brevi queste nuove situazioni che si vengono creando. Quindi nel momento in cui è avvenuta meno un po' l'attività termale, terapeutica, quella propria delle terme, si è pensato di fornire questo servizio che sta avendo dei discreti risultati. E dal livello nazionale il bollettino quotidiano ci racconta di 29.000 nuovi casi con 230.000 tamponi, drammaticamente alto il numero delle vittime che sono state 822. L'emergenza pandemica in corso sta mettendo a dura prova la tenuta psicoemotiva delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche sono tutti elementi che possono far nascere attacchi di panico, ansia, paure, stress e disagio. Per questi motivi ConfCommercio, Pesaro Urbino, Marche Nord, in collaborazione con un team di psicologi coordinati dal dottor Alessandro Cinti Luciani, ha istituito un numero di telefono a cui poter rivolgere domande e confidare timori. Un servizio che sarà attivo lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, gratuito per tutti gli associati e le loro famiglie. Apriamo ora una nutrita pagina dedicata alla cronaca. Sono ingenti i danni provocati dai ladri che si sono introdotti nottetempo all'interno dello stadio Filippo Pirani di Grotta Mare. È in corso un inventario dei beni presenti all'interno della struttura sportiva per verificare l'esatto ammontare del valore sottratto, in particolare presso la segreteria, i magazzini ed il bar dell'area hospitality. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Metteva in vendita online console musicali con tutte le funzionalità ad un prezzo convenientissimo, ma era una truffa. A stroncarla la denuncia di un San Benedettese. Sentiamo. Una super console musicale all-in-one, schermo touchscreen, tastiera digitale, mixer effetti di colore del suono, prezzo competitivo, disponibilità immediata e fiducia verso il sito internet utilizzato dal venditore. Un affare irresistibile e anche imperdibile, ma non per l'ignaro acquirente. Un 32enne di San Benedetto del Tronto che, dopo aver comprato la console, con un semplice click, non ha mai ricevuto l'ambito oggetto. Il giovane, nonostante avesse ottenuto prima dell'acquisto la copia del documento di identità, il numero di cellulare e anche l'Iban bancario del venditore, dopo giorni di vana attesa e senza avere la possibilità di recuperare la significativa somma versata in anticipo, si è rivolto al comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno denunciando l'accaduto. Subito sono partite le indagini con gli uomini delle Fiamme Gialle che hanno scoperto che il nominativo dell'intestatario dell'utenza cellulare fornita in fase d'acquisto era diverso da quello dichiarato nel corso delle trattative e che inoltre l'Iban, verso il quale era stato onorato il pagamento anticipato, conduceva ad una carta prepagata bloccata pochi giorni dopo il bonifico. Si trattava di un 25enne romeno domiciliato a Monterotondo, gravato da molteplici precedenti di polizia proprio per reati contro il patrimonio e frode informatica, aventi tutti lo stesso comune denominatore, una console musicale all-in-one mai spedita, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte di una moltitudine di ignari clienti. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte attorno alle due a Fabriano in via Cialdini per l'incendio di un'autovettura alimentata a gasolio. La squadra dei pompieri giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l'area. Non si segnalano comunque persone coinvolte sul posto anche i carabinieri della locale stazione. È stata sospesa l'attività di due aziende, tessili di Ostra e di Montemarciano, dove i carabinieri hanno riscontrato la presenza di 11 lavoratori in nero e in una anche l'inosservanza delle disposizioni anti-covid sul luogo di lavoro. Complessivamente sanzioni per oltre 40 mila euro. I controlli sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Senigallia e dall'Ispettorato del Lavoro di Ancona. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Pesaro, un altro furbetto del reddito della cittadinanza. Sentiamo i dettagli. Smascherato un altro furbetto del reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto un titolare di partita IVA che negli anni 2017-2018 non solo ha conseguito redditi di impresa per oltre 16 mila euro mai dichiarati al fisco, ma ha anche vinto somme con giochi online per quasi 18 mila euro, omettendo deliberatamente di riportare tali informazioni nelle dichiarazioni sostitutive uniche per il calcolo dell'Isee 2019 e 2020. Ecco quindi che il soggetto ha percepito il reddito di cittadinanza senza averne ovviamente diritto per un importo complessivo di circa 9 mila 600 euro. Il controllato quindi è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Pesaro per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato che all'Inps per il blocco del beneficio e conseguente il recupero dell'indebito incassato. Sono tra l'altro episodi che sembrano ripetersi con costanza e l'attività delle fiamme gialle sarà comunque decisamente intensificata per scoprire coloro che sottraggono importanti risorse economiche destinate a persone e famiglie che ne hanno effettivamente bisogno. Sempre le fiamme gialle ma di Civitanova Marche nel contesto dei servizi di controllo del territorio hanno fermato un soggetto residente in città già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da diversi precedenti penali. Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata con l'ausilio di un'unità cinofila all'interno di un mobile del soggiorno è stato rinvenuto un contenitore con 4 pacchetti di hashish per un peso complessivo di 100 grammi e 200 euro in contanti ritenuto il provento dell'attività di spaccio. Il responsabile è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria inquirente. Il fiume Foglia sta progressivamente erodendo il manto stradale di via Garibaldi a Pian di Meleto provocando piccole lesioni e quanto emerso da un sopralluogo effettuato dall'assessore regionale Francesco Baldelli su sollecitazione di alcuni cittadini a cui ha fatto seguito una verifica tecnica. Si tratta di un'arteria rilevante per il territorio e per questo è stato reputato opportuno un intervento volto ad allontanare il flusso dell'acqua dal piede della scarpata del versante in dissesto. Venerdì e sabato ad Ancona parcheggi gratuiti con l'obiettivo ovviamente di sostenere il commercio in questo delicatissimo periodo. Manolita Scocco. Questo venerdì e sabato parcheggio gratis ad Ancona ovviamente solo per gli anconetani visto il divieto di spostamento tra comuni per chi, come le Marche, sono in zona arancioni. Saranno comunque due giorni importanti che Comune, Mobilità e Parcheggi hanno programmato per sostenere le categorie produttive in particolare il commercio artigianato in occasione dell'ormai arcinoto Black Friday. L'iniziativa non si limita al venerdì nero dedicato agli sconti ma viene estesa anche al giorno dopo sabato 28 novembre per evitare gli assembramenti ed è stata pensata per agevolare l'accesso ai vari centri commerciali naturali della città. L'iniziativa è proprio volta a sostenere alcune categorie tipo i negozianti, gli artigiani quelli che insomma vivono di commercio che in questo periodo stanno soffrendo quindi insieme al Comune è stato messo su un piccolo progetto in tempi brevissimi sia venerdì il Black Friday sia sabato 28 di novembre la sosta all'interno del Comune di Ancona su tutte le strisce blu quindi le zone all'aperto è gratis proprio per favorire la frequentazione anche se tutto questo avverrà, dovrà avvenire ecco il senso di ampliare a due giorni poi la domenica non si paga dovrà avvenire nel rispetto delle normative con la massima sicurezza possibile. Doppio il segnale che Comune e la sua società partecipata vogliono dare primo, se possibile, evitare gli acquisti online sostenendo le attività economiche della città secondo, usare il mezzo che in questo momento fa sentire al sicuro. Il funzionamento è semplice di solito si paga dalle 8 alle 20 invece non si pagherà né venerdì né sabato quindi completamente gratuito in tutte le zone della città la scelta è stata anche quella di favorire in qualche modo l'utilizzo dell'auto privata in un momento in cui magari i mezzi pubblici mettono un po' di ansia al cittadino e quindi con la propria audio si potrà andare a fare le proprie commissioni shopping o anche altre cose che servono senza pagare il parcheggio. Ci sono delle idee per il Natale sempre sperando che almeno nei giorni precedenti cambi la situazione le ordinanze lo permettano? Sì, gli sforzi del Comune e di MP sono assolutamente orientati nella medesima direzione anche per il Natale abbiamo già un piano di aperture straordinarie dei nostri parcheggi aperture domenicali straordinarie anche queste gratuite ma chiaramente tutto dipende dall'evolversi della pandemia della diffusione e soprattutto se le limitazioni di circolazione tra comuni della regione rimarranno probabilmente non sarà necessario ma il piano è pronto. A seguito della notizia giunta in tarda mattinata relativa ad una signora di Tolentino che ha ricevuto una telefonata da una persona sconosciuta con numero privato che si è qualificata impropriamente come un operatore del Cosmari che voleva consegnare il kit direttamente a casa per la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni delle persone positive o comunque in quarantena per il Covid il Cosmari ancora una volta precisa come in situazioni analoghe verificatesi precedentemente che tutti i dipendenti del Cosmari SRL indossano divise facilmente riconoscibili e ogni volta si qualificano agli utenti in base alle proprie mansioni. Ed apriamo la pagina sportiva ora con il calcio Daniel Amabile della sezione di Vicenza è l'arbitro designato per dirigere Venezia Ascoli match valido per la non aggiornata del campionato di Serie B in programma sabato prossimo alle 14 al Pierluigi Penso gli assistenti sono Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessio Berti di Prato. Parliamo ora dell'Anconitana delle sue prospettive di mercato del nuovo contatto con un ex mai dimenticato come Salvatore Mastronunzio e del patrimonio rappresentato dalla passione dell'attuale presidente Stefano Marconi in questa intervista realizzata da Andrè Busiello con il neo direttore generale Biancorosso Recchi. Come vi state muovendo sul mercato? Guarda noi stiamo intanto il presidente è stato chiaro in un'intervista con voi con gli organi di stampa la settimana scorsa noi avremo sicuramente una riunione tra tutte le varie componenti per decidere come operare sul mercato io non smentisco i nomi che sono usciti né tantomeno vado a dire sì prenderemo proprio questi nomi importanti che sono nomi veramente molto importanti per Ancona e per questo questo campionato però ci sono alcuni passi da fare intanto all'apertura del mercato sarà il primo di dicembre quindi abbiamo tempo dieci giorni per capire il concetto degli svincoli o meno e poi aspettiamo a fine dicembre quello che succederà perché secondo me il leitmotiv di questo calciomercato è non farsi prendere dal panico di non farsi prendere dalla fretta di poter fare l'investimento giusto dando a tarare quelli che sono i ruoli che in questo momento dovrebbero andare a completare questa rosa Direttore uno dei nomi papabili è sicuramente quello di Salvatore Mastronunzio Mastronunzio ha lasciato il cuore ad Ancona e inutile negarlo si era anche lasciato male nella vecchia esperienza con l'Anconitana Ne ha parlato il Presidente guarda questa è una cosa molto bella sicuramente il fatto di dire anche lasciarsi l'elettro del Presidente le cose passate sono passate ora guardiamo al futuro e questo secondo me è una prima cosa da tener conto Il primo approccio per questa nuova trattativa com'è stato? Allora guarda sono intanto le trattative incominceranno quando incominciano effettivamente le finestre di mercato quindi in questo momento si sono parlati con il Presidente queste cose punto e basta quindi non c'è questo clamore di avere nemmeno essere andati contro le società dove giocano adesso i giocatori si sta soltanto parlando è un pur parler poi dal primo di dicembre in poi vedremo come si muoveranno le cose certo è una trattativa che porta davanti il Presidente in prima persona questa l'ha sempre detto perché ci sono rapporti particolari e è stato bello quando lui ha detto il passato il passato ora pensiamo a costruire questa squadra io onestamente quando sono arrivato agganciandosi alla domanda precedente oltre all'amico Stefano al concetto d'amicizia sto trovando veramente una persona che ha veramente tanto entusiasmo e non vorrei farglielo perdere ad Ancona perché per Ancona era tanto che non c'era un Presidente come Stefano Marconi quindi un Presidente che ha avuto una escalation di vittorie negli anni precedenti e poi lo scorso anno sappiamo com'è finita per il concetto Covid altrimenti io penso che sarebbe senza nulla togliere l'ottimo lavoro di Mr. Lauro che io stravedo ce l'avevo a Cesena come giocatore quindi grande uomo e grande professionista però non so se alla fine del campionato sarebbe stato quello il risultato quindi va riacceso l'entusiasmo in Stefano nel nostro Presidente vanno fatte le cose di nuovo come Anconitana è come squadra che vuole crescere poi non è sempre facile vincere perché se no allora giocherebbero solo con le carte e con il fatto che siamo capologo di regione invece poi sul campo abbiamo visto anche in ultima presa giocata c'era una squadra come Val di Chienti che andava due volte in più rispetto a Anconitana ecco queste sono l'intervista integrale domenica alle 21 nel corso del consueto appuntamento con le marche nel pallone la notizia dell'improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo ed in particolare ovviamente quello del calcio il presidente della FIGC Gabriele Gravina per onorare la memoria del grande campione argentino ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmati nel prossimo fine settimana e vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 27 novembre amici tra i bimeto bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà ancora pressione atmosferica abbastanza alta sull'Italia ma si avvicina a quest'area di bassa pressione dalla Spagna e comincerà a portare degli annuvolamenti e delle piogge sulle regioni più occidentali controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese ecco le nuvole che arrivano appunto dal Mediterraneo occidentale andranno a interessare la Sardegna il versante tirrenico poi anche la Sicilia e porteranno con sé anche delle piogge controlliamo infatti la previsione delle precipitazioni sull'Italia piogge per il momento deboli interessano principalmente la Sardegna qualche goccia arriva anche tra la Toscana e l'Alto Lazio forse anche sulle riviere Liguri però ripeto per ora precipitazione ancora di debole intensità quindi in definitiva ci attendo un venerdì che vedrà sì qualche nuvola in più in Sardegna nell'Italia centrale specie il versante tirrenico in Liguria qualche goccia di pioggia diciamo Sardegna Toscana Alto Lazio Riviere Liguri però per ora piogge deboli nell'Italia ancora situazione tranquilla attenzione a nebbie e foschie di notte al primo mattino in pianura padana e temperature basse nelle prime ore del giorno al centro nord per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Un'ultima notizia ci giunge dalla VL dopo i risultati degli ultimi tamponi effettuati la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che all'interno del gruppo squadra permane un caso di positività al Covid-19 con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione e appuntamento come sempre a domani Grazie a tutti